Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Dopo l'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, l'USRA, anche l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, l'USRC, torna operativo con i pieni poteri di firma dopo la registrazione della Corte dei Conti. Il responsabile ad interim, cioè provvisoriamente dei due uffici, Giovanni Francesco Lucarelli, nominato fino al 31 gennaio prossimo dal Governo, ha firmato i primi provvedimenti per conto dell'USRC, liquidando uno stato di avanzamento lavori per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro e 18 pratiche di ammissione al contributo per un importo di 6 milioni di euro. Il mio è un mandato a breve e a scadenza, ma di piena responsabilità sul Governo dei processi, in un clima complessivo pienamente collaborativo da parte del personale USRC e dei comuni, spiega Lucarelli, il quale sottolinea che è fondamentale per l'ufficio stabilire un asse empatico con i sindaci e il territorio. La Giunta regionale abruzzese ha approvato ieri il bilancio consolidato 2017, stanziati anche 400 mila euro per il piano neve, 100 mila a ciascuna provincia. Il bilancio consolidato 2017 evidenzia la complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Regione di tutti i soggetti partecipati o controllati dalla stessa, l'Azienda per il diritto allo studio, l'Arap, l'Ater, i consorzi, il Teatro Stabile d'Abruzzo, TUA, cioè la Società Unica dei Trasporti, Sangritana, Abruzzo Engineering, FIRA, cioè la finanziaria della Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo, fissando un quadro di insieme che non potrebbe essere focalizzato dall'esame dei bilanci dei singoli enti. Il risultato d'esercizio 2017 è positivo per 302 milioni 664 mila euro contro i 96 milioni 317 mila dell'anno precedente. Crescono anche proventi e ricavi della gestione, che passano dai 3 miliardi 308 milioni del 2016 a 3 miliardi 449 milioni del 2017. Scende invece ad ammontare delle componenti negative che si attestano a 3 miliardi 192 milioni contro i 3 miliardi 394 milioni dell'anno prima. E' tornato in Italia ed è stato ricevuto alla Camera dei Deputati dal Presidente Roberto Fico Dennis Cavatassi. L'imprenditore abruzzese è rientrato appunto in Italia dopo aver evitato la pena di morte in Thailandia, dove ha trascorso sette anni in carcere con l'accusa di omicidio del suo socio, accusa dalla quale è stato assolto, è stato ricevuto ieri insieme ai suoi familiari a Montecitorio dal Presidente della Camera Roberto Fico. Poche parole da parte dei presenti. Il Presidente Fico si è detto felice di riabbracciarlo. Cavatassi si è recato anche al Ministero degli Esteri per incontrare il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. E poi ha detto che vuole tornare, quando sarà possibile, in Thailandia da uomo libero. E' stata approvata da raggiunta del Comune di Pescara la delibera per il piano freddo. L'accoglienza dei senza fissa dimora presenti in città in questo periodo di temperature rigide sarà attuata nell'ex scuola elementare di Via Largo Sant'Angelo fino al prossimo 28 febbraio. La macchina organizzativa è già partita e l'apertura della struttura è prevista subito dopo Natale. L'accoglienza sarà curata dalle ore 19 alle ore 9, quindi durante le ore serali e notturne, dall'Associazione On the Road Onlus, dalla Fondazione Caritas e dal Comitato Provinciale dell'Arci che nel mese di febbraio hanno partecipato al bando di coprogettazione per lo svolgimento del servizio di pronto intervento sociale e da tutte le associazioni di volontariato che vorranno collaborare al piano freddo. Ha già manifestato disponibilità alla comunità Papa Giovanni XXIII. Nella struttura saranno predisposti una settantina di posti retto, lenzuola, cuscini, coperte e un servizio di vigilanza. Trascorsa la notte, i senza fissa dimora, dopo aver consumato la colazione, lasceranno i locali. Il coordinamento dell'accoglienza sarà dell'assessorato alle politiche sociali che ha già attivato il numero 349-78-56-242 lo ripetiamo 349-78-56-242 per segnalare persone che dormono all'aperto. Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa l'entrata della stazione di Pescara Nord verso Ancona-Bologna per consentire i lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. I lavori sono previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli. infatti si sono svolti appunto fino alle 5 di stamattina ma in alternativa comunque insomma si possono avere informazioni anche per vedere insomma se ci saranno altri disagi chiamando il numero 840-04-2121 ricordiamo tra l'altro che questo numero in questi giorni nei quali il traffico autostradale è previsto più intenso del solito è particolarmente utile quindi ve lo ripetiamo 840-04-2121 La centrale unica del 118 Chieti-Pescara si trasferisce in aeroporto oggi alle 11 sarà sottoscritto un accordo operativo per sancirne l'attivazione al tavolo si siederanno la regione Abruzzo la ASL Chieti-Lanciano Vasto, quella di Pescara, la SAGA associazione che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo la firma avverrà nella sala conferenza al primo piano dell'aeroporto d'Abruzzo Verso la proroga della solidarietà con Roma Capitale per il trattamento dei rifiuti il sindaco di Chieti Umberto Di Primio promette controlli a tappeto su quantitativi e accusa il dilettantismo la sindaca di Roma Virginia Raggi una posizione ben precisa e definita quella del primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio sui rifiuti in arrivo da Roma Di Primio fa il punto della situazione in Abruzzo tutto questo in attesa che la regione decida per la proroga o meno del trattamento degli stessi per il 2019. Le 70.000 tonnellate di rifiuti dalla capitale ci preoccupano non c'è stata precisa di Primio alcuna richiesta ufficiale dalla sindaca Raggi ma solo da un assessore con una richiesta laconica e abbastanza asettica che ci chiede di ricevere i rifiuti per il trattamento la cosa su cui siamo stati molto chiari i sindaci interessati e la regione stessa è che i rifiuti una volta trattati non potranno assolutamente rimanere nella nostra regione ma dovranno essere smaltiti in discariche non abruzzesi mostre, laboratori, concerti, reading, letture e ancora incontri, spettacoli, mercatini e degustazioni fino al premio Genti d'Abruzzo un'intera giornata dalla mattina a mezzanotte dedicata allo spazio che racchiude e conserva le testimonianze storiche e culturali della regione che idealmente si uniscono al quotidiano fino a guardare al futuro e Open Museum rassegna in programma domani promossa da Mente Locale con il Museo dei Reggenti d'Abruzzo e il supporto dell'assessorato alla cultura del Comune di Pescara la giornata coinvolgerà non solo tutti gli spazi dello stesso museo peraltro visitabile con ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24 ma anche l'intera via delle caserme una giornata per accendere tutti i luoghi del museo così da coinvolgere più persone alla scoperta delle sue meraviglie di diverse generazioni dice Giovanni Diacovo che è assessore alla cultura del Comune di Pescara per aggiornare il concetto di genti d'Abruzzo e allo stesso tempo ribadirne l'orgoglio 12 palme della specie Washingtonian Canariensis attaccate dal punteruolo rosso sono state abbattute nei pressi del Palacongressi di Martin e in Vialdo Moro a Montesilvano le piante irrimediabilmente compromesse e vegetativamente morte sono state imbustate e smaltite secondo le disposizioni di legge la lotta contro l'insetto infatti regolamentata da un decreto del 2011 prevede l'obbligo dell'intervento alla fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione 13 nuovi chioschi per attività commerciali di diversa forma quadrata, rettangolare o circolare ma tutti in legno saranno disponibili per gli imprenditori che lo richiederanno a Montesilvano il progetto che risale al 2011 su iniziativa dell'allora assessore Claudio D'Aventura è concretizzato solo ora dopo una serie di rinvii approfondimenti la localizzazione è prevista sul lungomare, su via Verrotti, via Vestina e in corrispondenza della strada parco ogni chiosco sarà di superficie di circa 10 metri quadri e le tipologie merceologiche vanno da paninoteca a bar e caffè da bruschetteria a rosticini a fiori e piante da frutta e verdura a porchetta e poglie allo spiedo oggi è venerdì 21 dicembre la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sociodotale a Don Giorgio di Giampaolo il meteo dice che oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino alle ore centrali molto nuvoloso nel primo pomeriggio poco nuvoloso nel resto del pomeriggio, nelle prime ore della sera e coperto in tarda serata con temperature da 8 a 11 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo poco nuvoloso fino alle ore centrali nuvoloso nel pomeriggio, nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 8 a 11 gradi e venti deboli in mare è previsto quasi calmo era l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale da Massimiliano Spiriticchio in studio Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie per averci seguito a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica grazie per averci seguito